Con l'uscita della nuova season regalerò tantissimi pass battaglia per la season 8 di Fornet Quindi lascia un like adesso se anche tu vuoi ricevere il pass battaglia della season 8 Qui sul canale vengono fatti ogni giorno dei regali agli iscritti Che includono nuove skin, cosmetici e anche il nuovo pass battaglia della season 8 quando uscirà Se anche tu vuoi avere la possibilità di ricevere un regalo è molto semplice Iscriviti al canale attivando la campanella Commenta qui sotto con il tuo idea epic Ed inoltre se ti fa puoi supportare il canale utilizzando il mio codice creatore Daccini All'interno dell'item shop di Fornet E se vuoi mandami la foto taggami su Instagram così ti andrò a ripostare L'aggiornamento finale di questa season 7 sta finalmente per arrivare Riceveremo tantissime novità, cambiamenti alla mappa e i leaks sull'evento della season 8 di Fornet Però quindi cominciare col video mi raccomando come al secondo vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video E soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici Così anche loro vengono a scoprire tutte quante queste novità che porterà quest'oggi Questo nuovissimo aggiornamento patch 17.50 qui all'interno di Fornet Quindi partiamo subito e senza perdere altro tempo come già detto in precedenza Esattamente quest'oggi o nella giornata di domani ma è molto più probabile quest'oggi di martedì Verrà implementata la patch 17.50 Che sarà l'ultimissimo aggiornamento, l'aggiornamento finale di questa season 7 di Fornet Quindi sarà probabilmente la patch più importante di questa season Infatti tramite questo nuovo aggiornamento riceveremo tantissime novità sul finale di questa stagione Cioè sull'evento finale che appunto avremo nel termine di questa season fra pochissimi giorni Riceveremo anche il nuovissimo countdown dell'evento Avremo anche maggiori informazioni sulla season 8 che ormai si sta avvicinando sempre di più E andiamole subitissimo a vedere Partiamo subitissimo e andiamo appunto a vedere le primissime novità confermate Che verranno introdotte tramite questa patch Quindi le cose che già sappiamo ufficialmente che verranno implementate quest'oggi Come già detto la patch ci dovrebbe essere o questa mattina o domani mattina Io sto registrando il video in anteprima Quindi ancora non lo so Ma al 90% la patch verrà implementata questa mattina Ovviamente mentre voi starete vedendo il video già saprete a che ora sarà la patch Andiamo a vedere appunto tutte quante queste info E partiamo dalle primissime Infatti una primissima novità che dovrebbe essere introdotta tramite questo nuovo aggiornamento È proprio una nuovissima collaborazione che porterà in gioco Una nuovissima skin in collaborazione con la Marvel Proprio la nuovissima skin di Shang-Chi Dovrebbe chiamarsi in questo modo Infatti questo personaggio della Marvel Come già ci anticipò il Leaker Apex E anche la fonte anonima di Reddit Arriverà qui su Fortnite proprio il 2 settembre dovrebbe arrivare E quindi nei file di gioco tramite questa patch Verrà inserita proprio questa skin Di questo personaggio Che molti di voi sicuramente già conosceranno Che fa proprio parte del mondo Marvel Quindi sarà una nuovissima collaborazione con la Marvel Che verrà finalmente implementata qui all'interno del gioco Passiamo avanti perché oltre questa nuova collaborazione Quest'oggi verrà rapita la terza città dalla nave madre Infatti tramite la patch finale di questa stagione Verrà rapita l'ultimissima città Che sarà proprio Podere Pannocchia Quindi Podere Pannocchia verrà rapita dalla nave madre E ovviamente succederà la stessa cosa che è successo sia a Pantano sia a Castello Corallo La nave madre si andrà ad aprire e in varie fasi in alcuni giorni Andrà a rapire dei pezzi di Podere Pannocchia E poi li porterà all'interno di essa Infatti al momento dentro la nave madre abbiamo i pezzi di Castello Corallo Gli edifici di Castello Corallo Ma dai prossimi giorni avremo i pezzi di Podere Pannocchia all'interno della nave madre Quindi appunto Podere Pannocchia verrà ufficialmente rapita Sarà la terza e ultima città che verrà rapita dalla nave madre Quindi molto interessante Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto all'interno dei commenti E se vi dispiace della rimozione di Podere Pannocchia Quindi succederà la stessa cosa che è successa negli scorsi aggiornamenti A Pantano Palpitante e a Castello Corallo Andiamo avanti perché oltre il rapimento di Podere Pannocchia Avremo anche maggiori informazioni sull'evento finale di questa Season 7 Infatti come ben sapete al termine di questa Season Avremo l'evento finale che ci porterà dalla Season 7 alla Season 8 E come già abbiamo parlato in tantissimi video In questo evento secondo i file di gioco L'Ordine Immaginario e la Dottoressa Sloan faranno esplodere la nave madre Quindi appunto la nave madre dovrebbe esplodere Proprio tramite la bomba che l'Ordine Immaginario sta costruendo sotto Podere Pannocchia Quindi sicuramente ci sarà qualcosa di collegato alla bomba sotto Podere Pannocchia E anche il rapimento di Podere Pannocchia Comunque l'evento finale di questa Season si prospetta davvero molto molto interessante Infatti tramite questa patch visto l'ultimo aggiornamento di questa stagione Dovrebbero proprio essere inserite all'interno dei file di gioco Tutti quanti i file criptati e non criptati dell'evento finale di questa Season Quindi sicuramente avremo tantissime informazioni E come ci ha anche riportato la fonte anonima di Reddit nei precedenti giorni Esattamente fra il 3 e il 4 settembre In game dovrebbe anche apparire il countdown dell'evento Quindi il countdown che ci andrà a riferire quando inizierà l'evento Quindi presumibilmente visto che il countdown dell'evento verrà introdotto tramite questo nuovo aggiornamento E che dovrebbe apparire in gioco fra il 3 e il 4 settembre Si pensa che l'evento finale di questa Season quindi l'evento finale che ci porterà la Season 8 Dovrebbe essere fra il 10 e l'11 settembre Perché di solito il conto alla rovescia dei countdown è quasi sempre di 7 giorni Quindi in teoria l'evento finale di questa Season dovremmo riceverlo fra il 10 e l'11 di settembre Come ci vanno anche a riferire tantissimi leaker Quindi tramite la patch di quest'oggi aspettatevi l'introduzione del countdown all'interno dei file Che poi verrà anche inserito all'interno del gioco nei prossimi giorni Quindi avremo finalmente un evento finale in questa Season Visto che già da un po' di Season non riceviamo neanche più un evento finale Ormai è dalla Season di Galactus che non abbiamo un evento finale a fine Season Quindi molto interessante Fatemi sapere se è set in hype per questo evento Ma sicuramente riceveremo tantissime informazioni tramite la patch di questa mattina Prima di continuare andiamo a ringraziare ben 3 persone che mi hanno mandato la foto O taggato su Instagram Mentre hanno inserito oppure shoppato qualcosa Col mio codice creatore Daccini Quindi grazie mille a tutte queste 3 persone che starete vedendo in questo momento a schermo Ovviamente per supportare il canale E mi raccomando se anche voi volete essere ripostati o nei miei video all'interno di Instagram Taggatemi oppure mandatemi la foto su Instagram Mentre shoppate qualcosa o semplicemente inserite il mio codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite Quindi grazie mille a tutte le persone che lo faranno Perché in questo modo potete supportare il canale E grazie mille ancora ai 3 ragazzi di oggi Andiamo avanti perché le info non sono finite E qui andiamo appunto a leggere cosa ci va a scrivere questo leaker Perché questo leaker ci va proprio a dire tutti quanti i contenuti che dovrebbero essere aggiunti tramite la patch di quest'oggi Quindi andiamo immediatamente a leggere Infatti come ci va a scrivere il leaker CinaBR Contenuti che dovremmo ottenere nell'aggiornamento di domani Che sarebbe l'aggiornamento di oggi Infatti come già detto in precedenza verrà introdotta la nuova skin di Shang Chai Molto probabilmente criptata Poi avremo il rapimento di potere pannocchia dopo un periodo di inattività Quindi dopo la patch vedremo potere pannocchia che è stata rapita Poi avremo il file dell'evento per l'evento di fine season Avremo anche i file dell'evento ritorno a scuola Quindi avremo appunto un nuovissimo evento per il ritorno a scuola E secondo molti leaker dovremo anche ricevere delle ricompense gratuite Che poi vi andrò a mostrare anche in un prossimo video Quindi avremo un altro evento per il ritorno a scuola Ed infine verranno introdotte anche delle nuovissime skin Quindi si prospetta davvero una grandissima patch Ricordo che dovrebbe esserci questa mattina di solito intorno alle 8 o intorno alle 10 Questi sono gli orari in cui Epic va sempre ad implementare gli aggiornamenti Quindi fatemi sapere se è set in hype Ovviamente oltre queste cose riceveremo anche maggiori informazioni Sulla nuovissima season 8 che ormai è sempre più vicina Ovviamente tramite questa patch riceveremo informazioni sulla season 8 Perché sarà l'ultima patch di questa season Perché poi la prossima patch ci sarà fra due settimane O meglio fra una decina di giorni Per la nuovissima season 8 Quindi questo è tutto per questo video Fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete in hype Per questa nuovissima patch 17.50 Che arriverà questa mattina O al massimo domani mattina Anche se molto più probabile Che arriverà quest'oggi di martedì Io spero che questo video vi sia piaciuto Ma soprattutto vi sia stato di aiuto Se così vi ricordo di lasciare un bel like O per supportare il canale Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella Per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video E soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici Fate vedere anche allora tutte queste info Sul nuovissimo aggiornamento patch 17.50 Che arriverà quest'oggi qui all'interno di Fortnite Noi ci vediamo ad un prossimo video Una prossima live Ciao Ciao Grazie a tutti.